C'è Gavira, non raccontare le bugie, in questo momento che cosa dici un corridore con una partenza così bella, con tanto tipo? Una giornata spettacolare, già a lungo tempo non avevamo sole qua a Milano Sanremo, allora credo che possiamo goderci i primi 200 km e poi apriamo. E poi si vedrà. E qual è il tuo stato di forma dopo le prime gare della stagione? Come avete visto abbastanza male, però può essere peggio, allora lo prendo positivo e spero che possa tornare più forte. Senti, questa gara però prevede tante sorprese di per sé, come inibili l'anno scorso, quindi c'è la tua speranza di vincerla, ti manca questa gara e il tuo bel palmarès? Chi vive sperando mora cagando. E quindi bisogna andare. Grazie. Sicuramente c'è fiducia, sì. Grazie.